In questa nuova puntata di Slug Terra Allora, iniziamo Questo gioco l'ho appena scadicato e non so neanche com'è Ho visto su Play Store, che era bellino E eccolo qua Accetto Scusa, mi sono dimenticato di mia cugina Samantha e mio cugino Antonio Allora, vediamo com'è questo gioco che abbiamo ancora visto Il prossimo video sarà che vi faremo vedere i 5 giochi più belli, incluso questo E poi si continuerà a fare i giochi di questo gioco Andiamo avanti Il prossimo video è il prossimo video è il prossimo video Allora, vediamo Dovrebbe essere bello questo gioco Se non avete, vi consiglio di scaricarlo Ok, è molto bello E se vi piace il video mettete un like Oppure se c'è qualche problema Qualche video che dobbiamo fare Vi vedete nei commenti Ti spiego un po' cosa dovevo fare Ehm, ma non lo so neanche io Camminare? Boh, camminare, sparare, si cos'ca D'avventura, d'avventura, diciamo Un gioco d'avventura Ehm, ma non lo so neanche io Ehm, come io così Ehm, come io così bello questo è il nostro amico bello si io parto con il nostro amico grande amico forse adesso muovi se ci corre nella città della luce ci fa tanto più va bene vediamo la campagna vediamo l'arsenale poi vediamo la settimana prossima sarò anche di video su mindlast o di giochi sul pc ovviamente che devo fare con i sono giudica che Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. non c'è capito che bruca è il dono ah c'è quello non c'è capito che non c'è capito non c'è capito che non c'è capito che non c'è capito non c'è capito che 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 non c'è capito Sto facendo un pochino. Che bello. Con tutto. Sto diventando un bosco di cuore. Mi sono scelati troppo. Sto difficile da baggiare. A che livello schiavo ci sono due? Non lo so. Al primo? A che livello schiavo ci sono due? Non ci sono. Hai già la vita. Ce l'hai già la vita con Bello. Quindi non c'è bisogno di cuore. C'è sempre questo? E solo questo tengo. Puoi camminare anche... E solo capire come si fa. Infatti. No, io ho consumato di tutti perché non li tengo. E si cronicano. Io sono andato sempre lo stesso. Cioè, sto ascoltando che si ripara. Ho finito il contatto meno. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.